Intra e Sorokaita, meglio di così non poteva andare, contava il risultato, avete vinto, avete anche giocato bene. Sì, stai cadendo a una che io cerco sempre il massimo, quindi un 3-0 sarebbe stato perfetto, però 3-1 va bene lo stesso, quindi adesso ci aspetta Novara, adesso lasciamo star Novara, godiamoci oggi che siamo nella semifinale, che è bellissimo. Oggi siete stati superiore un po' in tutto, avete fatto meglio di busto a muro, avete difeso tantissimo e siete stati superiore poi anche in attacco, almeno per 3 set su 4. Sì, potevamo fare molto meglio anche il terzo set, però è anche vero che ci stava un calo, perché abbiamo fatto due set dove la tensione era alle stelle, la tensione e la tensione, quindi ci stava. Poi il quarto set ci siamo riprese, è vero che con le squadre molto importanti bisogna giocare muro difesa, è difficile fare un muro punto diretto, quindi bisogna toccare di giocare e contraattaccare, però è proprio questo il bello di play-off, è proprio questo per cui si merita come Conegliano ha fatto ieri con Modena, come abbiamo fatto noi oggi, come in tutte le partite un po' di play-off, per quello sono state belle, perché anche con le squadre che come individualità magari erano più forti, però si è visto quando si toccano tanti paloni e si gioca di squadra e si gioca soprattutto con il cuore, si vince. Questo nuovo schema che ti permette di concentrarti più sull'attacco ti piace parecchio, sembra? Di brutto! Grazie a tutti!